ciao bellezza e benvenute in questo nuovo video di nero corvino questo è il primo video che faccio da quando mi sono stabilita in svizzera sono qua da in realtà poco tempo da meno di due settimane sono arrivata al giorno 21 di marzo siamo stati tutti i giorni impegnati con il traslogo comprare roba nuova siamo stati all'ikea siamo stati a comprare delle cose che servivano in casa dobbiamo ancora sistemare tante cose abbiamo ancora degli scatoloni da sistemare insomma siamo veramente siamo presi da questa sistemazione vi ho chiesto la scorsa settimana di farmi delle domande nelle stories di instagram e ne ho raccolte un pochettino e oggi risponderò insieme a voi iniziamo con la prima domanda ogni quanto bisogna tagliare non appena si notano le prime doppie punte allora in realtà no dovresti tagliare un po prima di vedere le doppie punte la situazione ottimale sarebbe quella di prevenire la comparsa di doppie punte effettuando dei piccoli tagli a cadenza ad esempio quello che faccio io per evitare proprio che compaiano le doppie punte è quello di tagliare i capelli due tre volte l'anno fare delle spuntate di 4 5 o 6 centimetri massimo e così mantenere la salute dei capelli nel momento in cui tu noti la comparsa di doppie punte già il danno si è palesato quindi saresti costretta a tagliare di più di quanto invece taglieresti prevenendo la comparsa delle doppie punte quello che ti posso consigliare quindi di spuntare due tre volte l'anno togliendo un 4 cm a spuntata prossima domanda ma è la svizzera italiana altrimenti come farai con la lingua no ragazze non sono in svizzera italiana io sono in svizzera tedesca siamo in un piccolo paesino vicino zurigo mauro lavora qui nell'ospedale appunto del paese ci siamo fermati qui in questo momento poi vedremo il futuro dove ci condurrà sicuramente per adesso restiamo in svizzera tedesca anche perché io tra poco ormai meno di due settimane inizierò il corso di lingua tedesca quindi sì ragazze comincerò a parlare il tetesco e poi insomma questo mi consentirà di trovare un lavoretto che a sua volta mi consentirà di ottenere il permesso di soggiorno cercherò di non trascurare il canale anche perché io ho anche il canale di mente criminale che è il canale del true crime e vi lascio qua sopra linkato nella bandina se ancora non mi seguite su mente criminale quindi cercherò di fare un video a settimana sul nero corvino e ci provo un video a settimana su mente criminale anche se su mente criminale sono un po lenta a fare video perché il materiale da reperire è tanto ci vuole tanto studio io non concentrandomi sui casi a mo di racconto come fanno le altre youtubers che trattano appunto la tematica ma da un punto di vista più professionale più da studente del crimine ovviamente il mio materiale veramente tanto cioè ci metto veramente tanto tempo per poter scrivere un copione e poterne poi fare il video quindi vediamo cercherò di fare magari un video a settimana anche lì ma vediamo un po comunque devo incastrare un po di roba perché adesso devo dare quattro esami nella sessione estiva e devo incastrare anche la nuova lingua che dovrò imparare e ovviamente i miei normalissimi progetti di vita che non che non voglio assolutamente mettere da parte allora prossima domanda qual è la cosa che più ti spaventa del vivere all'estero attualmente ti dirò la scarsa comunicazione cioè il fatto di non riuscire a comunicare il fatto di non sapere la lingua in secundis e il fatto di di non avere un servizio sanitario in questo preciso momento della mia vita perché io sono ancora con servizio sanitario nazionale italiano e avendo delle prescrizioni ovviamente io sono soggetta alle prescrizioni del mio medico italiano il problema è che per comprare le medicine che mi servono che devo prendere purtroppo non posso acquistarle con ricetta italiana e svizzera quindi in questo momento sono un po impaurita da questo punto di vista però per il resto non ci sono attualmente delle altre cose che mi spaventano aiutami con questi capelli che non crescono allora il tuo mi sembra più un grido di dolore piuttosto che una una domanda scrivimi la tua routine scrivimi cosa fai cosa non fai per vedere che i tuoi capelli non crescono o meglio crescono ma non allungano oppure non crescono perché sono due cose molto diverse allora prossima domanda ciao ti segui da un po soprattutto su youtube e come te sono passata al bio vorrei chiederti per l'olio essenziale di rosmarino i massaggi allo scalpo se si deve fare lo shampoo oppure no devi cercare di incastrare il lavaggio con delle tempistiche tali da non far sostare l'olio in cute troppo tempo non sei obbligata a fare lo shampoo ogni volta che fai il massaggio in cute l'importante però è che tu la di la cute abbastanza spesso da evitare che l'olio rimanga sulla cute molto tempo perché l'olio svolge una funzione occlusiva non permette alla cute di respirare in modo corretto e quindi ecco lasciare l'olio troppo tempo in cute diventa problematico dovresti lavare i capelli ogni 23 giorni altra domanda l'acqua calcarea può rovinare una corretta routine si una una soluzione basica quindi in questo caso può andare ad inficiare i risultati che puoi ottenere con una corretta routine perché il ph basico in questo caso va in contrasto con quello che è il ph naturale della nostra pelle dei nostri capelli che è leggermente acido e quindi può andare a fare una serie di cose che vanno un po a rompere l'equilibrio del nostro fisico quello che ti posso consigliare che se hai un acqua particolarmente calcarea a casa puoi fare risciacquo acido ti lascio qui in alto il video in cui parla di risciacquo acido risciacquo basico in cui affronto i diversi ph così può esserti d'aiuto a capire un pochettino tutto il contesto delle soluzioni risolvendo con un risciacquo acido la situazione si dovrebbe ecco appianare nessuna domanda ma grazie per avermi fatto ricordare panico paura quali requisiti servono per abitare in svizzera allora in realtà i requisiti che ti servono sono la giustificazione cioè tu devi avere una giustificazione per poter abitare in svizzera come ti serve una giustificazione per tutti quei paesi che non fanno parte dell'unione europea nel mio caso la giustificazione non esiste perché le giustificazioni fondamentalmente a grandi linee sono tre il primo è il rapporto di coniugio quindi tu puoi raggiungere tuo marito o tua moglie se sei sposato o sposata senza avere l'obbligo di di fare altro perché è ammesso il ricongiungimento coniugale in secundis puoi venire svizzera per motivi di studio se sei iscritto ad una facoltà svizzera quindi ad esempio le persone in erasmus che vengono in svizzera possono dichiararsi come studenti oppure in terzo luogo per lavoro io non avendo nessuna di questi tre permessi fondamentalmente ho bisogno di imparare la lingua per poter fare un lavoretto e poter quindi ottenere il mio permesso di soggiorno un po come ha fatto mauro all'epoca quando è venuto in svizzera questa è la storia il problema che devo sapere la lingua e quindi adesso devo imparare il tedesco altra domanda come stai abbastanza bene vorrei sapere cosa posso usare come shampoo naturale possibilmente non polveri purtroppo non c'è molta scelta se vuoi evitare di utilizzare le polveri poi dirigerti verso degli shampoo ecobiologici solidi o degli shampoo ecobiologici liquidi ma penso che comunque tu l'abbia già fatto come passaggio purtroppo se ti vuoi indirizzare verso uno shampoo totalmente naturale non ci sono molte sostanze che puoi utilizzare come sostituti c'è il fieno greco che ha un leggero potere lavante ma non può essere utilizzato come sostanza esclusiva detergente quindi non ti consiglio di utilizzarlo come shampoo e purtroppo non c'è molto da fare alta domanda miscela camomilla fitofilos per ispessire senza scurire base castano allora io ho visto l'inci di questa miscela camomilla ho visto che c'è una percentuale di lausonia in ermis e puoi utilizzarla utilizzarla se vuoi un po' ispessire i capelli però non pensare di ottenere un risultato fantastico cioè non pensare di avere un ispessimento particolarmente evidente o evidente perché per avere un ispessimento dei fusti devi utilizzare lausonia in ermis pura o al massimo mixata con un'altra polvere come ad esempio quando fai l'indigo o il katam comunque deve essere una percentuale sufficiente per poter agire in questo senso in ogni caso ispessire significa anche ottenere uno scurimento del colore via via perché lo strato scurisce comunque con questo tipo di miscela non ispessirai chissà quanto cosa aggiungere all'impacco tintodio per non far seccare i capelli i gel naturali ce ne sono tantissimi in commercio molti si trovano meglio però con il gel di aloe vera perché hanno notato che gli altri gel tendono a far scaricare le n o comunque le tinture vegetali mentre invece l'aloe vera insomma non è così pericolosa da questo punto di vista io stessa cerco di utilizzare l'aloe vera quando tingo i capelli perché ho notato che il gel di semi di lino o il gel di fenogreco sia inseriti all'interno del composto tintorio sia fatti poi con un impacco idratante dopo aver tinto i capelli tendono a far scaricare il colore però ecco devi fare un po di test per vedere qual è la sostanza migliore per te dipende anche da capello a capello bene ragazze le domande sono finite io spero di avervi intrattenuto con questo piccolo video adesso io torno un po a sistemare casa a vedere quello che bisogna fare capire che cosa bisogna comprare qua dietro c'è la la lista della roba che dobbiamo acquistare all'ikea tipo la cassettiera insomma stiamo veramente cercando di ambientarci e anche di abituarci alla convivenza perché una cosa è quando tu vieni dal tuo partner vai dal tuo partner per andarlo a trovare è un momento no è una sorta di visita momentanea però insomma quando ci vivi insieme è un'altra cosa io e mauro abbiamo fatto praticamente tutta la settimana a litigare per stupidaggini però sì abbiamo litigato qualche volta quindi niente ragazze io credo di avervi detto tutto noi ci vediamo al prossimo video che spero sarà un video a settimana male che vada ci vediamo al prossimo video presto 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 io vi mando un grandissimo abbraccio ci vediamo sempre qui su Nero Corvino Ciao 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 Grazie per la visione!